Vincitrice di Miss Muretto 2011, 58esima edizione di Alassio e... aprite pure le buste ragazze la numero 14 Liliana Potesco Penso che non mi sono ancora svegliata da questo sogno che lo sto vivendo qui sono molto molto felice che sono riuscita ad aggiungere qui è stato il mio sogno da tanto tempo quindi adesso mi sento troppo troppo felice non me lo sono aspettata Non ci si ricorda da quanto tempo non vinceva una Ligure questo concorso tu non sei Ligure ma vivi a Borghiera? Allora l'anno scorso ho sentito però anche gli altri anni quando venevo qui sempre che sentivo di questo concorso e quest'anno non lo so cosa mi ha detto dentro di interessarmi un po' di questo concorso qui Adesso andrei nello spazio tra le altre cose? Sì, mi piacerebbe tanto spero che Miss Muretto mi aprirà tanti porti nel mio futuro Sua figlia è la nuova Miss Muretto? Non mi viene a credere l'ho sempre fermata però è stato il suo sogno da piccola voleva, voleva e alla fine è arrivata La fascia non è più sulle tue di spalle È vero, la fascia è su una bellissima ragazza Ligiana a cui auguro tanta fortuna perché veramente se lo merita e Miss Muretto porta fortuna sono contenta Miss Muretto mi ha formata mi ha fatta crescere quindi mi porto dietro ho un'esperienza fantastica mi porto dietro persone fantastiche una famiglia mi porto dietro quindi più che io non la lascio dietro per me Miss Muretto mi rimane sempre nel cuore e me la porterò avanti